Il vertice sugli abusi sessuali iniziato in Vaticano con il Papa e i Presidenti delle conferenze episcopali di tutto il mondo sta andando molto bene. Parola di Monsignor Jean-Claude Holrich, gesuita, arcivescovo di Lussemburgo e Presidente della Commissione delle Conferenze Episcopali della Comunità Europea. Siamo stati molto colpiti di tutto quello che si è detto, soprattutto delle testimonianze di vittime che abbiamo sentito. È andato veramente nel fondo del cuore. Qualcuno ha pianto sentendo queste testimonianze? Sì, il Papa con una gentilezza, una naturità ci mostra cosa vuol dire seguire il Cristo.